Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Free News. Apriamo quest'edizione del nostro TG con la cronaca. Intenso lavoro in questo fine settimana da parte dei carabinieri della compagnia di Vittoria. Un uomo di 36 anni è stato tratto in arresto perché deve ancora espiare in carcere una pena residua di un anno, mentre altre 9 persone sono state denunciate per reati vari. Sentiamo. Tratto in arresto dai carabinieri Biagionoto, 36enne, vittoriese. Pregiudicato e già condannato per i reati di calunnia e rapina, estorsione in concorso e associazione per delinquere di stampo mafioso. L'uomo, fermato dai militari, dovrà espiare in carcere una pena residua di un anno ed è stato condotto presso la casa circondariale Bicocca di Catania. L'operazione rientra nell'ambito dei controlli portati avanti in questo weekend dai carabinieri della compagnia di Vittoria, su disposizione del comandante provinciale di Ragusa, Nicodemo Macri. Il servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato i centri cittadini e le aree rurali dei comuni di Comiso e Chiaramonte e Gulfi. Nell'ambito di questi controlli sono inoltre state denunciate 9 persone, tra cui una donna rumena di 43 anni per furto e danneggiamento, colta sul fatto mentre rubava da un impianto serricolo 8 kg di peperoni. Ed ancora un tunisino di 36 anni, un vittoriese 25enne ed una catese di 28 anni, sono stati sorpresi alla guida in stato di ebrezza alcolica, mentre un altro 27enne vittoriese è stato trovato in possesso di un telefono cellulare che era stato rubato nel 2009. Ed infine un pregiudicato a catese di 19 anni è stato denunciato per porta illegale di oggetti atti ad offendere, poiché è stato trovato in possesso di tre coltelli, mentre un altro suo concittadino di 25 anni e due tunisini sono stati sorpresi alla guida di un'auto senza aver mai conseguito la patente di guida. Incendio questa notte a Marina di Ragusa, in un'abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Vediamo. Incendio questa notte a Marina di Ragusa. Intorno all'1.40 la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto l'invio di una squadra con a seguito un'autobotte per il rifornimento idrico ed il successivo invio della squadra operativa di Santa Croce Camerina sul luogo dell'incendio, in via Pola numero 13, angolo con via Pozzallo. Pare che a scatenare l'incendio sia stata un'esplosione di gas. Sul posto i vigili del fuoco hanno potuto constatare che nell'abitazione di due piani era avvenuta un'esplosione dovuta alla dispersione di GPL da una bombola di 10 kg. La casa era abitata da una sola persona che è stata condotta con un'ambulanza del 118 presso l'ospedale di Ragusa. Le fiamme hanno coinvolto masserizze varie, mentre l'onda di pressione ha diverto infissi vetrate ed inferriate al piano terra, provocando lievi danni anche agli infissi al primo piano, al momento non abitato. A scopo precauzionale sono stati temporaneamente inibiti all'uso i locali ubicati a piano terra. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione. E torniamo a parlare di sbarchi e di immigrati. Sabato sera infatti 198 persone sono state trasferite da Lampedusa al centro di prima accoglienza di Pozzallo. Le operazioni sono state condotte dalla Capitaneria di Porto, mentre il trasferimento è stato effettuato dalla nave San Giorgio della Marina Militare. 198 extracomunitari sono arrivati a Pozzallo. Nella tarda serata di sabato scorso, la nave San Giorgio della Marina Militare Italiana ha trasportato fino al porto di Pozzallo i quasi 200 migranti approdati nei giorni scorsi sull'isola di Lampedusa. La nave militare è partita alle 3 dall'isola Pelagia, con 285 migranti a bordo, e prima approdata nel sorgitore di Porta Empedro, che sbarcando 40 adulti e 47 minori, per poi dirigersi presso il porto di Pozzallo, dove è arrivata alle 21 nell'arrada, ed ha immediatamente iniziato a trasportare verso la banchina militare del porto i migranti. Il trasferimento dalla rada alla banchina è stato effettuato sotto il coordinamento della sala operativa e del servizio della Capitaneria di Porto, insieme all'assistenza delle dipendenti motovedette CP 888 e CP 316. Gli immigrati appena arrivati sono stati immediatamente trasferiti nel centro di prima accoglienza. Prognosi di 40 giorni per una ragazza modicana, che sabato sera è rimasta vittima di un grave incidente avvenuto nella parte alta di Corso Umberto. La giovane di 15 anni viaggiava sul sellino posteriore di un ciclomotore condotto da un soccataneo, quando si sono scontrati con un'auto, che probabilmente ripartiva dopo una sosta. Scattati i soccorsi, due feriti sono stati trasportati dall'ambulanza del 118, a pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Modica, dove i medici di turno hanno prestato le prime cure del caso. E cambiamo argomento, si svolta questa mattina alla provincia regionale di Ragusa una riunione del comitato ristretto della Ragusa Catania. L'incontro è servito per fare una valutazione. Dopo l'incontro avuto sabato mattina in prefettura, con l'assessore regionale alle infrastrutture per Carmelo Lorusso. Vediamo. La marcia lenta si farà. Il prossimo 14 aprile, gli stati generali della provincia di Ragusa partiranno alla volta dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania, dove si svolgerà l'assemblea conclusiva. Questa mattina a Palazzo di Viale del Fante il comitato ristretto per la Ragusa Catania si è riunito nuovamente per fare una valutazione dopo il vertice di sabato mattina in prefettura, con l'assessore regionale alle infrastrutture per Carmelo Lorusso. Durante la riunione di due giorni fa è stato redatto un documento congiunto firmato dall'assessore russo dai parlamentari regionali Iblei e dal presidente della provincia di Ragusa Franco Antoci, nel quale si chiede al presidente della regione Raffaele Lombardo di confermare l'impegno finanziario per il project financing per la realizzazione del raddoppio dell'importante arteria. Sollecitato dagli esponenti politici ragusani e dal comitato ristretto che segue leader del raddoppio della Ragusa Catania, l'assessore russo davanti al prefetto di Ragusa ha sottoscritto il documento per fugare ogni dubbio sulla scelta del governo regionale a partecipare con i fondi FAS al progetto di finanza che ha subito un rallentamento per una serie di difficoltà procedurali. Ma evidentemente le rassicurazioni dell'esponente del governo Lombardo non hanno soddisfatto e convinto appieno i componenti del comitato ristretto della Ragusa Catania che hanno così confermato che la marcellenta di protesta per chiedere lo sblocco dell'iter dell'aeroporto di Comis e dell'autostrada si farà ugualmente. Ci fermiamo adesso per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco.